Eccoci rientrati in studio, vi ricordiamo che come al solito l'appuntamento di Rossazzurri va in onda ogni lunedì insieme a Valentina Mammino, poi c'è questa appendice del giovedì con Antonio Costa, oggi in via del tutto eccezionale il sottoscritto a condurre l'appuntamento appunto di questa settimana, augurando chiaramente anche la pronta guarigione alla collega Antonio Costa, ospiti Giuseppe Sorbello e anche Salvo Angemi. Abbiamo detto che dobbiamo parlare della partita di domenica sera al Massimino tra Catani e Udinesi e lo facciamo subito con il servizio di Valentina Mammino. Domenica al Massimino sarà a Catania Udinese per la decima volta in Serie A. Il bilancio è nettamente favorevole ai padroni di casa, vittoriosi sei volte a fronte di un pareggio, un 1-1 nella gestione Mihailovic, reti di Sanchez e Viaggianti e due sole sconfitte, entrambe per 2-0 nelle stagioni 83-84, straordinaria doppietta di Zico e 2008-2009, reti di Sanchez e Quagliarella. Una storia dunque fatta di una spilza di vittorie tutte piuttosto rotonde e dato interessante sempre a rete inviolata per i rossazzurri. Il primo incontro tra le due compagini risale alla stagione 54-55 e reca il risultato di 5-0. Si dovrà attendere il 26 marzo 1961 per un nuovo confronto. Il Catania di Di Bella, sesto in classifica, affrontava un Udinese ad un passo dal baratro della retrocessione. Quel giorno finiva 3-0 ma i friulani riuscivano comunque a salvarsi, ripresentandosi l'anno dopo al Cibali ancora per una sconfitta, ancora pieni di guai, ma questa volta senza il felice epilogo dell'anno precedente. Da quel momento in poi infatti i bianconeri conosceranno un periodo molto triste, fatto di una lunga permanenza in Serie C. Si dovrà attendere la stagione 83-84 per un nuovo confronto e questa volta sarà per l'Udinese una rivincita dopo anni di sconfitte. Ai piedi dell'Etna, come detto, finiva quel giorno 2-0 per gli ospiti. Storia più recente, 10 dicembre 2006, un colpo di testa di Spinesi regalava al Catania Di Marino il quarto posto in classifica, un sogno per una matricola. Ancora una vittoria l'anno dopo grazie ad una doppietta di Peppe Mascara che beffava così l'ex tecnico ross-azzurro passato dall'altra parte della barricata. L'ultimo confronto risale invece alla scorsa stagione e racconta di una partita fallosa illuminata al sessantesimo da un gol di Maxi Lopez per il definitivo 1-0. Quest'anno sarà l'ultima giornata a fare da teatro al match tra le due compagini e chissà magari anche alla festa del Catania per il raggiungimento dell'obiettivo stagionale. I numeri di Catania, Udinese, domenica sera al Massimino, un incontro importante soprattutto perché l'Udinese in proiezione Champions League, insomma spera almeno di portare via almeno un punto perché sarebbe sufficiente appunto per prepararsi per i preliminari di Champions League. Passiamo subito al pronostico a questo punto e poi diamo anche l'arbitro che è un arbitro un po' particolare, sarà De Marco ad arbitrare questa partita e noi di Catania insomma abbiamo non un ricordo positivo, vedi appunto la partita ultima con il Lecce. Allora la partita credo che sia una partita vera, poi a tal proposito avremo proprio un sondaggio per capire se effettivamente sarà una partita vera o potrebbe esserci forse un leggero, non dico inciucio perché è un po' troppo grande, però della serie non ti faccio male, non mi fai male. Un biscottino. Un biscottino. Il pronostico però sulla carta dà favorita comunque all'Udinese perché forse è più motivazionata. Dico bene? Allora le motivazioni del calcio sono un elemento secondo me importantissimo, cioè a volte superano la tecnica, la tattica, la preparazione atletica, cioè la motivazione è quella che spesso fa prendere da una parte. Fa scattare quella forza in più, leggera ma in più. E allora però il Catania ha il suo orgoglio, ha la possibilità di arrivare a 50 punti che è un record assoluto. Saranno 49 però saranno 51. 51. Quindi voglio dire rimarrebbe la storia e fra 30 anni, 40 anni sarebbe citato il Catania di Montella di quest'anno. Però io credo che la squadra di Guidolin, insomma sai fare i preliminari sono sempre dei risultati straordinari. Il Catania non è nuovo a battere le squadre, però ormai il Catania è sul tolte, ma neanche voglio dire il Catania è a livello delle squadre di alta classifica. Perché? Chiamiamo la seconda fascia? No, 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 no. Io sono convinto che è di prima fascia il Catania perché il gioco espresso dal Catania è di prima fascia. Poi i risultati possono essere di seconda fascia, di terza. Siamo con lo scatto di maturità che potrebbe venire con un ulteriore campionato in più sulle spalle. Dopo la Juve che ha fatto un anno, diciamo tutto sommato, molto continuo, il Napoli, l'Udinese che hanno fatto dei momenti, hanno avuto dei momenti importanti. La Lazio? No, la squadra è più continua dal punto di vista del gioco dopo la Juve è il Catania. Sono d'accordo. Invece Salvo, come vedi questa partita? Quali possono essere le vere spinte dell'Udinese per cercare di portare i punti importanti dal Massimino domenica sera? Sicuramente la spinta è quella del terzo posto. Non ci sono storie perché comunque l'Udinese secondo me è chiamata a vincere per consolidare questo terzo posto perché Lazio, Inter e Napoli sono lì in agguato. Quindi potrebbe anche esserci la sorpresa dell'ultima giornata che ci insegna il nostro calcio che spesso e volentieri c'è stato. Non dimenticando che l'anno scorso, l'ultimo partito con la Roma, vincendo sulla Roma 2-1 proprio sul finire, abbiamo eliminato da un possibile preliminare proprio la Roma in Champions League. Quindi le motivazioni forse il Catania ce le ha. Ebbè lì è perché comunque non dimentichiamoci che il Catania... Insomma c'è un passato non certamente tranquillo. Esatto, ricordiamo il 7-0 all'Olimpico il primo anno in Serie A, quindi comunque contro la Roma c'è una voglia di fare di più. Però con l'Udinese c'è stato sempre un rapporto tranquillo delle partite del Catania e quindi il pareggio ci potrebbe anche stare, anche se credo che sotto questo punto di vista una marcia in più ce l'abbia l'Udinese. L'arbitro sarà De Marco, lo conosciamo perché nella partita contro il Lecce insomma forse poteva anche evitarsela quell'espulsione a Carrizzo. Tra l'altro abbiamo proprio le immagini del momento in cui c'è l'espulsione del portiere rosso-azzurro. Io credo che... Insomma, troppo protagonismo in campo? Giuseppe? Ma questo è un carattere sintomatico di alcuni direttori di gara che non... seguono quello che qualche vecchio designatore del tempo suggeriva. Impartiva, suggeriva, sì. Suggeriva, diciamo, l'arbitro è quello che non si fa notare in campo, è il migliore. Giusto, giusto. Il migliore arbitro è quello che... ma c'era l'arbitro oggi. Sì, 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 è vero. Questo è il migliore arbitro. Invece molti di questi giovani un po' pompati, un po'... Credo che la televisione incita su questo, no? La visibilità televisiva di una partita ormai che si vede 24 ore su 24 in tv porta un po' al protagonismo. E quindi spesso si eccede perché poi il protagonismo è l'anticamera dell'eccesso di protagonismo. Sì. Perché tu puoi essere anche protagonista in positivo. Però è sempre lì, c'è la linea di demarcazione molto sottile. Però voglio lanciare una cosa positiva su De Marco. Cos'è perché? Perché comunque non arbitra male, attenzione. Perché tecnicamente la partita con il Lecce non ha sbagliato una virgola. Forse c'è stato quell'eccesso esagerato nel momento in cui la partita era quasi finita, voglio dire, uno a uno. Però sai cosa penso? Che due squadre come il Catania e l'Udinese daranno pochi rattacapi a un arbitro. Perché sono due squadre che giocano a calcio e non a calci e sono poco fallose. Il Catania rispetto agli altri anni è il meno falloso. Questo è un dato che è importante. E come? Molto importante. E come? Perché fino a qualche anno fa dicevamo sempre che erano gli arbitri che no? Eravamo anche noi, insomma. Noi come squadra del Catania. Invece quest'anno la squadra è meno fallosa, gioca meglio, l'Udinese è una squadra poco fallosa, gioca bene. E in velocità tra l'altro. E in velocità. Quello è un aspetto tattico. Quello è un aspetto tattico. E' importante. Rimanendo sul punto della tattica, il Catania è meno falloso proprio perché si è alzato il punto di vista sia tattico che tecnico della squadra. È vero, bravo, questa notte è giusta. Il tasso tecnico è migliorato e quindi tendono giustamente più a giocare il pallone, a costruire geometrie più intelligenti possibili e poi infatti i risultati ne hanno dato ragione. Un difensore come Allegro Taglie che comunque dal punto di vista tecnico non ha nulla di invidiare a tanti altri difensori della Serie A, è normale che è sempre molto meno chiamato al fallo tecnico. Sì, sì, sì. Tra l'altro dovrebbe rientrare Spolli dalla squalifica, anche se credo che il campionato di Bellusci non mi è dispiaciuto. Assolutamente no. Però la coppia, le Taglie e Spolli è una coppia... Leggermente più affidabile. Una coppia che spesa sul piano aereo, sul gioco aereo. A Spolli e a Bellusci manca ancora quel senso di sicurezza sul pallone. Ancora è in un trend di crescita, diamogli questa possibilità. Se continuerà a rimanere a Catania sarà sicuramente il difensore di domani. È vero. Ultima domanda e poi andiamo subito in pubblicità. Giuseppe, ma Capuano, queste esplosioni di Marchese, insomma, non è stata certamente molto bella per il terzino sinistro del Catania. È stata una stagione molto sfortunata per Capuano. Io, insomma, mi fa piacere che Marchese abbia veramente fatto un campionato straordinario. Però abbiamo un po' sofferto anche la mancanza di una continuità, di una certa continuità che comunque Capuano ci aveva garantito negli anni passati. Lo so, questo è un'analisi giusta quella che fai, però riguarda un singolo. La squadra che vengiamo, bisogna fare il quadrato. Quando un giocatore come Marchese che quest'anno ha fatto un campionato straordinario, straordinario, e secondo me qualcuno lo dovrebbe guardare a questo giocatore. E io sto parlando di qualcuno importante. Soprattutto perché è un terzino sinistro. No, sto parlando di Brandelli. Cioè, voglio dire, andiamo a vedere sempre i solidi, però guardate questo ragazzo che ha fatto della continuità prestazionale il suo fiore all'occhiello dell'annata calcistica. È vero. Al di là del gol bello, del tiro al volo. Sì, 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 una continuità disarmante. Ha un piede dolcissimo, si fa trovare sempre a sostegno. Spinge e difende. È uno dei pochi che sa difendere, perché chi sa spingere spesso non riesce a fare neanche la diagonale semplice. Abbiamo parlato di nazionale, però a questo punto veramente devo rubare ancora qualche secondo la pubblicità. Me la devo fare subito questa domanda. L'Odi nazionale, insomma, da più parti gira sempre di più questa voce, anche in prospettiva europei. Perché comunque serve un vice pirlo in panchina. E attualmente i numeri, i risultati e anche il rendimento parlano a favore del centrovalpista rossazzurro. Infatti io convocherei i due mancini, l'Odi e barchese. Mi piace, mi piace. Salvo? Idem, anche perché si parla di l'Odi non soltanto in nazionale ma pure alla Juventus. Benissimo. Allora, con questa speranza di noi tutti, tifosi e amanti del bel calcio, ci fermiamo. Abbiamo la pubblicità, tra poco rientra nel mi studio, sempre qui per Rossazzurri. Abbiamo la pubblicità, tra poco rientra nel mi studio, sempre qui per Rossazzurri.